Ciao Aldo di Ro. Aldo di Ro sto per farti un grandissimo regalo. È tanto tempo che siete fidanzati? Sì. Quanti anni? Dodici. Dodici anni non sono un cazzo. Aldo di Ro, cosa farete questa sera una volta fuori da Zelig? Restiamo più sul vago? Te lo lascio immaginare, non lo so, andate a rubare sulle macchine fuori, nel parcheggio. E allora faccio una domanda più generica, la faccio a tutti gli amici di Zelig. È giusto perché poi magari ci sta seguendo qualche bambino o magari qualche porporato e non vogliamo mettere in imbarazzo nessuno. Amici di Zelig, chi stasera, dopo questo mio trattenimento, ha obiettivi ambiziosi per il resto della serata? Io posso darvi una grande carica per i vostri obiettivi ambiziosi. Adesso io ti insegnerò un haka maori, questa haka maori ti darà una carica erotica, sessuale e di fascino per le prossime sei ore. Elisa, ti mando a casa uno stallone. Elisa, prepara le cosce perché ti sto mandando un cinghiale irsuto. Questo porco è pieno di voglia, Elisa, lo sto caricando come una molla, basta, stai calmo, calma. Un regalo che faccio a tutti quanti. Adesso io farò un haka maori, la spiegherò a lui e questa haka se la farete anche voi vi riempirete di energia sessuale. Ok? Ve la faccio vedere una volta e poi vi spiego cosa succede. Questa cosa vi caricherà da morire. E adesso fate una cosa, fatela per me. Giratevi, girate la testa alla vostra destra. Giratevi a destra. Guardate la persona che sta alla vostra destra. Adesso girate la faccia alla vostra sinistra. E guardate la persona che sta alla vostra sinistra. Adesso guardate me. Ecco, con questa haka maori, nelle prossime sei ore, probabilmente voi finirete per fare l'amore con la persona che sta o alla vostra destra o alla vostra sinistra. Ma, se non vi piace che avete la destra o alla vostra sinistra, io faccio fermare le riprese e potete cambiarvi di posto. Prendo questo silenzio come un sì e quindi vado avanti. Sei pronto? Alziamo tutti le braccia al cielo, grazie. Sei pronto? Anche tu? E ripetete insieme a me. Wakatori Non è wakatari Ma scusate, ma io ho la merda in bocca quando parlo, che non si capisce che cazzo dico. Ho detto wakatori Allora, compitiamolo bene. Wakatori Wai Baidu Waila E poi si ripete tre volte watu 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 Chi si è rifatto le tette di recente Non vogliamo esploderle, non vogliamo farle esplodere E poi sono esentate da questa kamaori Chi non c'ha voglia Ecco una cosa che voglio ricordarvi Il petto sul quale battere le mani è il proprio e non quello della persona di fianco Wakatori Wai Baidu Waila Watu Watu Guardatevi intorno Che cazzo guardatevi Sarà una notte di guaiti Grazie Grazie Grazie